Il momento è decisamente fuori controllo. Lavoriamo tutti stressatissimi con una tensione altissima, la tensione psicologica è alle stelle e la situazione purtroppo non si riesce a contenere in tutta la regione Lombardia perché i contagi sono tantissimi, i morti non si contano neanche più e guardate le notizie che arrivano dall'Italia per rendervi conto di cos'è veramente la situazione. È inimmaginabile. Io vi saluto e speriamo sempre in bene. Dai, forza! Grazie per la visione!